anche se trattengo questo disagio fisico per ragioni emotive accetto chi sono e come mi sento anche se non mi sento abbastanza sicuro da affrontare il cambiamento accetto chi sono e ciò che provo anche se sento il bisogno di perdere peso mi accetto completamente e profondamente anche se non sono pronto a lasciare andare la preoccupazione per il futuro accetto comunque chi sono e come mi sento anche se ho ignorato i messaggi mandati dal mio corpo scelgo di prestargli attenzione adesso potrebbe esistere una ragione emotiva per questo malessere fisico per prenderci cura di noi stessi dobbiamo tornare indietro e prenderci cura del bambino ferito dentro di noi